Ciao ragazzi, Jacopo di Vigitaly. Nel video precedente abbiamo letto un articolo, una rivista, in cui si parlava del mercato immobiliare, stili di vita, come la pandemia sta influenzandolo, come lo sta influenzando. E ora vi dico, questa era l'opinione di questa rivista, ora vi dico la mia opinione, combinata con la situazione, i fatti, i dati di quello che sta succedendo. Per chi, questo in particolare per chi magari sta pensando di comprare casa, per chi sta guardando il mercato e dovrebbe capire un po' cosa fare o se aspettare o meno e cosa aspettarsi anche dal futuro. Andiamo a vedere intanto cosa sta succedendo. Beh, è molto semplice cosa sta succedendo, siamo in una crisi economica, oltre che sanitaria, c'è molta incertezza, molte persone hanno perso il lavoro, altre lo stanno per perdere, eccetera, però c'è anche un esercito di persone che ha soldi da parte, che ha lavorato da casa per mesi, che quindi già voleva comprare casa e adesso magari ha ancora più voglia, ancora più incentivo a cambiare, a spostarsi, perché magari vive in un centro città, magari vive a Londra, perché adesso con lavorare da casa ha ancora più senso comprare una casa fuori Londra, avere una casa col giardino, una casa spaziosa, piuttosto che un appartamento centrale vicino all'ufficio. Quindi quello che sta succedendo è che abbiamo un mini boom, un mini boom per quanto riguarda il mercato delle case, le house, non gli appartamenti. Tutto ciò che è al di fuori dai centri città, quelli grossi, è tutto ciò che è una casa intesa come un freehold, un qualcosa con un giardino, con tre o quattro camere da letto, con spazi dove vivere e dove passare un lockdown, o dove avere un ufficio in casa, spazi utili, decenti. Ecco, tutto questo mercato si è rivalutato, è esploso, ed è esploso non solo perché, come vi ho detto, c'è un esercito di persone che è pronta a comprare queste case perché lavora da casa, perché stufa di stare in centro, ma anche perché il governo ha messo il trappolone togliendo la stamp duty fino a marzo. La stamp duty è la tassa di acquisto immobili, che in Inghilterra vuol dire, di solito oscilla tra il 2% e il 5%, poi si sale, si va anche oltre, se si parla di seconda casa, se si parla di case che costano più di tot. Quindi la stamp duty, se capite che su una casa, non pagare tra il 2% e il 5% di questa casa significa risparmiare tanto, e per farvi capire, una casa da mezzo milione di sterline è qualcosa che ti costa in tasse, tra le 20 e le 30 mila sterline solo di stamp duty. Quindi quando tu annulli la stamp duty, magicamente, crei dei soldi, regali dei soldi al compratore, perché lui aveva da parte una caparra che avrebbe utilizzato per mettere appunto il deposito sulla casa, più la stamp duty, ora la stamp duty non c'è più, quindi il deposito sulla casa aumenta, e quindi anche il potere d'acquisto aumenta e si può cercare di comprare una casa più grossa, più importante perché non si pagano più le tasse. Questo fino a marzo. Quindi questa cosa è stata fatta, se non ricordo male, ad agosto. Questo ha scatenato un mini boom. Un mini boom e andate a cercare su Google e vedrete che tutte le zone esterne a Londra, le zone verdi, le zone dei classici villaggi, cittadine, non dico neanche dimenticate, ma quelle che magari prima sì, andavi a comprare la casa lì, in quel paesino, in quella città, però dopo anni di valutazioni, quando eri sicuro, quando avevi certe... Adesso ti danno lo sconto della stamp duty, ti dicono il tuo datore di lavoro, ti dice che lavorerai da casa per sempre, poi non è neanche detto che lavorerai da casa per sempre. Questa è anche un'ipotesi che molti stanno dando per scontata, ma non l'ha. E anche lì ci sarebbe da discutere se questa cosa durerà per sempre. Quindi questa cosa combinata ha portato un esercito di acquirenti. Sia first time buyer, quindi chi compra la prima casa, che una volta magari avrebbe comprato un appartamentino da una o due camere in centro Londra o nei dintorni del centro per essere vicino agli uffici. Adesso invece lo cerca fuori, lo cerca nei paesini che possono essere, diciamo, nell'arco di 150-200 km dal centro di Londra. E non solo, poi c'è anche chi lo cerca nel nord dell'Inghilterra, chi lo cerca anche Ornovaglia, però capite che c'è ora un esercito di persone che sta guardando case e sta offrendo prezzi, sta pagando anche più di quello che magari sono, di quanto valgono. Quindi si sta creando una mini bolla, un mini boom. Come ho detto, se andate a cercare le statistiche scopperete, ma l'ho detto anche in un altro video, che le case vengono vendute adesso alla velocità della luce, al contrario degli appartamenti. Quindi questa è la situazione. Però questa situazione è solo temporanea, perché a marzo la stamp duty tornerà in vigore e quindi ci troveremo a marzo 2021 con diversi punti di domanda sui quali, che ora vi porto, che vi cito, vi menziono, perché sono i punti su cui si andrà a capire se il mercato immobiliare, diciamo da marzo, dalla primavera, l'anno prossimo in avanti, sarà a salire o a scendere. E per quali sono questi punti? Prima di tutto abbiamo le elezioni americane di novembre, che con il loro risultato influenceranno la politica di Brexit, perché come ben sappiamo Boris Johnson e il governo inglese stanno aspettando i risultati delle elezioni per definire e finalizzare il loro approccio a Brexit. Quindi questi Brexit e Stati Uniti e presidenziali americane sono insieme, quindi li dobbiamo aspettare fine novembre, direi, per capire meglio di che morte si morirà dalla Brexit. E, più importante di tutto, il discorso pandemia e il discorso vaccini. L'altro giorno, l'altra mattina, già sentivo abbiamo 6, 9, 12 vaccini in portafoglio, l'Inghilterra è messa benissimo, si parla già di vaccinare le prime persone a fine dicembre e poi avere il vaccino rollout distribuito nella popolazione i primi mesi del 2021, così che poi saremmo pronti a ripartire, bla bla bla. Quindi, da messaggi precedenti di qualche settimana fa di Boris Johnson che diceva si starà chiusi in casa fino a ottobre 2021, a messaggi che ti dicono che il vaccino ormai è già pronto, che siamo pronti a darlo a tutti e tornare a riaprire l'economia velocemente. Quindi, capite che l'incognita vaccini è sicuramente quella più importante, perché se il mondo, e non parlo neanche più dell'Inghilterra, se il mondo deciderà, o chi manovra il mondo, i reptiliani, se decideranno di dare alla popolazione, ai governi, un vaccino che risolva il problema del Covid per la primavera 2021, quindi riaprire, non del tutto, ma in parte, come potrebbe essere quantomeno quest'estate, l'economia, si avrà un boom enorme, perché avrai la stamp duty che finisce a marzo, avrai l'economia che si riapre, avrai la gente che finalmente prenoterà vacanze, comprerà una macchia nuova, avrà lavoro, riuscirà a tornare al lavoro, e la gente continuerà quindi a spendere, a muovere l'economia, e quindi anche a comprare case, e quindi il trend delle case salirà, e magari, dopo il mini boom delle case campagna, chiamiamolo così, si tornerà a guardare anche i centri città, e se si tornerà a guardare i centri città, Londra e altri centri città, sono stati piatti come prezzi, dal 2016 diciamo, da quando c'è stato il voto di Brexit, il mercato degli appartamenti a Londra, zona 2, zona 3, e oltre anche, non parlo di Prime London, quella dei milionari, ma parlo di quella delle persone normali, da appartamenti da 280, 350, 400 mila pound, quei prezzi diventeranno interessanti l'anno prossimo, perché non salgono da 4 anni, quindi gli appartamenti che erano, si stavano depreciando in centro Londra, o negli altri centri città, potrebbero tornare a essere interessanti, se i reptiliani, oppure Bill Gates, insomma, chi decide le cose, permetterà di tornare in ufficio, o permetterà alla gente di tornare a fare attività commerciali decenti, e interazioni decenti nei centri città, delle grandi metropoli, delle grandi città. Quindi, come vedete, c'è l'opzione positiva, in cui in qualche modo l'economia riparte l'anno prossimo, riparte poi con l'iniezione di liquidità, che c'è stata dai furlong scheme, dei grant ai business, dei prestiti da restituire in 5 anni, al tasso del 2,5% alle varie limited company, quindi ci sarà un'iniezione di liquidità, che potrebbe proiettare l'economia, esplodere, a fare un'esplosione generale, che pomperà appunto, l'economia inglese mondiale, per i prossimi 3, 4, 5 anni, non lo so, per poi avere un crollo, una mega bolla finale, in cui non si sa di cosa succederà, però c'è l'opzione appunto, esplosione in su, e poi ovviamente c'è il fatto che i vaccini non funzionano, la gente è morta, nella seconda ondata, questo inverno ci sono stati più morti che nella prima, siamo con le mani nei capelli, rivolte in strada, il casino, allora in tal caso, altro che mini boom, ci sarà un bel crollo, sotto tutti i punti di vista, il mercato del lavoro, e poi ovviamente il mercato immobiliare, perché non essendoci più l'incentivo a comprare senza stamp duty, nessuno comprerà, anzi, chi avrà comprato in questo periodo, magari se ne pentirà, perché la sua casa già perderà subito valore, però sappiamo anche che il gioco dell'immobiliare è un gioco a lungo termine, quindi uno non dovrebbe neanche preoccuparsi troppo di un calo temporaneo dei prezzi, se ha fatto un buon acquisto. Quindi questo è quanto, questa è la situazione del mercato immobiliare, è una situazione incerta, è una situazione in cui, se io dovessi comprare, se adesso mi si generassero 100.000 pound sul conto, andrei a guardare, per esempio, gli appartamenti nei centri città, quelli che stanno venendo ignorati, me ne fregherei delle case, perché le case stanno venendo vendute alla velocità della luce a prezzi superiori al loro valore, o al valore percepito, quindi puntirei a comprare un bel appartamentino in zona 2, vicino a Canary Wharf, eccetera, scontato, così che poi, quando l'economia ripartirà, questo sconto mi farà guadagnare molto, perché questo appartamento si rivaluterà moltissimo. Questo è quello che farei, se avessi dei soldi da investire adesso. Diversamente starei a vedere, aspetterei l'anno prossimo cosa succederà. Voi cosa ne pensate? Che dite? State comprando casa? Avete comprato la casettina o il giardino con la stamp duty? Siete riusciti ad avere un buon affare? O avete dovuto offrire più dell'asking price? Let me know nei commenti below. Ci vediamo alla prossima, ciao!